freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance adesso chiamerei luisa casanova stua che ci parla di gestire le azioni coi clienti sul lungo senza perdere la testa ma mantenere retention non facile bello acquisiamo i clienti siamo tutti felici ma a volte poi non va esattamente come vorremmo o come vorrebbe il cliente parliamo comunque sempre di relazione col cliente alcune pratiche giustamente possono essere automatizzate e dovrebbero essere automatizzate perché in effetti ci tolgono tantissimo peso quotidiano al lavoro altre un po meno ora visto che non ho appunto che andiamo a braccio partiamo dalle cose facili io mi chiamo luisa questo l'ha già detto mi hanno già presentato sono siccome non sapevo scegliere una qualifica professionale le metto tutte quindi faccio la consulente formatrice e coach e mi occupo sostanzialmente di negoziazione relazioni interpersonali quindi aiuto i freelance le freelance le aziende i team di lavoro a comunicare meglio tra loro o appunto con i clienti io amo dire per non litigare o per non mandarli a quel paese quindi se vi facessi la domanda qual è la cosa che reputate più complessa nella gestione di lungo di clienti magari di lungo periodo si fa un sacco di lavoro all'inizio quindi magari si parte da una situazione di uso dilettantesco di un canale e quindi arriviamo noi mettiamo le cose in ordine chiaramente c'è un grande scalino di miglioramento bene poi le cose non è che si fanno tutti in una volta si continua e si va avanti e comunque gli sistemi evolvono le persone imparano quindi si rendono conto che continuano a migliorare a un certo punto si arriva un po un plateau in cui ci si conosce molto bene a vicenda quindi sarebbe il momento in cui tu hai più informazioni per continuare ad aiutare il cliente però ecco non dico che non ci sono spazi di miglioramento però diventa più difficile trovarlo e sicuramente non sono più quei miglioramenti da siamo passati da 10 a 100 sono da 100 a 105 110 che per carità va sempre bene però insomma sei anche è anche più difficile perché poi non è che ci sei solo tu a lavorare c'è anche il sistema intorno il mercato le crisi per cui magari il miglioramento che stai portando tu viene diluito da una circostanza invece più sfavorevole del mercato per cui diventa anche difficile per me continuare a giustificare a trovare dei motivi per continuare a lavorare insieme questo è un domandone un po come nel matrimonio insomma all'inizio bello una figata beh poi dopo ma sempre lui c'è bello è però bello è comodo però poi c'è il mercato insomma che influisce certo mercato peggiora dici è in effetti anche l'esempio che hai fatto mi piace molto però la domanda è questa in questa evoluzione questo raggiungimento del platò tu fai sempre la stessa tipo di attività o ti trovi a fare delle attività che sono meno importanti perché quelle che ti hanno fatto crescere molto ormai si sono esaurite del tipo ti ho insegnato a fare le automazioni e quindi il tuo processo è migliorato da 0 a 100 hai scoperto che so fare anche altre piccole cose da quel momento e poi mi chiedi le piccole cose e grandi miglioramenti che mi impegnano non ne facciamo più e questo tipo di di situazione comunque la domanda sulla domanda raggiungiamo dei livelli no in qualche modo sì nel senso che comunque a volte sì cioè quando si inizia a lavorare un pochino come vi rifacciamo il sito oppure ti rimetto a posto tutto il tuo impianto di auto me di mail automation è chiaro che dopo si continua a lavorare poi le automazioni ad esempio visto che stiamo parlando di quelle non è che set it and forget it non è che sono a posto una volta e per sempre devono avere anche loro un'evoluzione cambiano i contenuti cambia la realtà e quindi si adattano i messaggi che mandi si continua a fare un lavoro ad esempio di revisione delle email che mandano i clienti diciamo si lavora sull'esecuzione quotidiana e quindi si continua a tenere in piedi bene un lavoro di esecuzione quotidiana che magari se noi non ci fossimo andrebbe un po alla volta a come dire a disperdersi il fatto stesso che il cliente stia pagando qualcuno perché gli segue un particolare ambito e io qui parlo di mail marketing ma penso che per chi fa social media marketing content strategy non sia tanto diverso comunque è uno stimolo è un pochino come quando paghi la palestra e quindi ci vai se invece tu dovessi fare gli esercizi a casa per conto tuo per di un pochino la motivazione ecco però a un certo punto anche quando vai in palestra dopo sei anni che ci vai dici ma insomma ma non potrei farli a casa da sola gli esercizi invece che pagare tutti i mesi una quota ecco questo genere di far evolvere le relazioni cliente fornitore o cliente consulente sulla lunga durata lo trovo una difficoltà un problema che mi pongo mi pongo spesso ho fatto bene a non prepararlo hai visto facevano da soli tanto lo sapevo uno di questi di questi problemi probabilmente è che appunto come detto tu si arriva una sorta di mantenimento e quindi è come si è come i maestri di una volta avevano il l'allievo quello che dice ok io te lo ti ho fatto fare la grossa evoluzione il mantenimento lo delego in basso quindi forse quello è un modo anche di risolvere una cosa del genere però aggiungo un'ultima cosa visto che mi è venuto in mente perché dietro di te c'è cristiano che stamattina mi raccontava la mia nutrizionista gli ultimi mesi non ha voluto farsi pagare perché dice che ormai sono abbastanza bravo per andare avanti e io sono molto felice per cristiano sono meno felice per la sua nutrizionista perché voglio dire hai un cliente un cliente contento soddisfatto che oltretutto è proprio social proof del fatto che sei in gamba e però decidi che smetti di farti pagare io non voglio far smettere di farmi pagare dai miei clienti di marketing voglio farli pagare sempre di più ogni anno proprio perché appunto la mia presenza insomma fa sì che loro continuino intanto alla nutrizionista dalle il mio numero o falla venire al freelance camp la prossima edizione che mi sembra che possa esserle utile allora il te avete messo sul tavolo due temi che corrispondono esattamente a due momenti no del ciclo di vita del nostro rapporto col cliente quello del farsi mandare la roba che è un po spesso per soprattutto per alcune professioni proprio l'inizio no cioè a volte siamo tutti felici firmiamo il contratto bello ok fa il sito va beh guardi mi servirebbe logo delle ma dei testi non so più o meno sapere ok ma tu intanto vai avanti e tu sei lì che dici va beh così rimane qui e quindi chiaramente qui siamo proprio all'inizio allora è importantissimo come in tutti i rapporti no impostare la relazione col cliente sin dall'inizio innanzitutto sembra una banalità ma che sarà stata anche già detta ovviamente più cose noi diciamo e specifichiamo negli accordi iniziali e anche volendo in un contratto e più chiaramente ci mettiamo a riparo anche eventualmente dal cliente che non solo non ci dà del materiale no ma poi pretende a un certo punto perché poi li conosciamo che spariscono quando si devono dare le cose le foto e cioè poi un certo punto si svegliano quando hanno un attimo di tempo libero e ti dicono a che punto è il sito ti porto una esperienza proprio real life mi ci sono voluti sei mesi e non sto scherzando sei mesi per avere delle fotografie decenti da inserire nel sito ogni settimana chiamavo per sei mesi per sentire a che punto stavano con le fotografie ecco attenzione a queste dinamiche nel senso che se noi sin dall'inizio già abituiamo i clienti al sostegno continuo quindi ogni settimana ti chiamo per chiaramente tutto il nostro rapporto col cliente poi si imposterà in questo modo verosimilmente qui i problemi possono essere diversi spesso il problema è che magari il cliente è impegnato e quindi non ha tempo ma in realtà tutti noi sappiamo bene perché tutti noi freelance non abbiamo mai tempo di fare quello che non ci frega niente di fare quindi il problema è sempre di percezione del valore del mio lavoro ok se tu mi chiami per fare un sito e il sito lo vuoi veramente fare e sai qual è il valore sei consapevole del valore di questo progetto per te tendenzialmente sarai già più portato per non svicolare quando si chiede i materiali quindi una buona norma che dicevano gli antichi era patti chiari amicizia lunga cioè sin dall'inizio del rapporto di lavoro perché poi noi parliamo di lungo periodo ma lungo periodo parte sempre da un momento iniziale sin dall'inizio il rapporto di lavoro la cosa migliore da fare è proprio capire ovviamente magari non è che glielo possiamo proprio chiedere direttamente ma fare più domande possibili un'intervista preliminare pre firma del contratto proprio per capire intanto qual è la priorità che il cliente da questo progetto qual è l'importanza che il cliente da questo progetto perché ci ha scelti quindi proprio cosa è importante per lui perché il 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 twist da fare è proprio che non mi stai facendo un favore a mandarmi delle foto il fatto che tu mi mandi il materiale serve affinché io faccia il tuo progetto nel tempo che abbiamo stabilito e allora stabiliamo un tempo un altro trick da adottare è fare prima la verifica del materiale quindi dire facciamoci una sessione al momento in cui abbiamo firmato il contratto siamo in procinto di firmare il contratto ci facciamo un incontro in cui io ti faccio una lista delle cose che mi serviranno ma non solo le cose materiali perché sarà capitato adesso noi parliamo di sviluppo di siti però per esempio io faccio percorsi di formazione o di consulenza con liberi professionisti che durano un tot quindi già dall'inizio si sa che sarà occupato questo tempo io cerco sempre di stabilire prima quale sarà il calendario e capire se quel professionista ha veramente a disposizione quel tempo quindi farglielo proprio visualizzare questo è importantissimo fate in modo che il cliente visualizzi concretamente quale dovrà essere il suo effort nel progetto quindi non dategli la pappa pronta quindi usciamo dal tunnel del lo faccio io ma è importante che noi coinvolgiamo il cliente proprio nei progetti che lo riguardano perché il freelance soprattutto in io direi sempre ma è un supporto no al lavoro del cliente un essere che sa tutto e tutto conosce e può fare le cose senza il cliente cliente come nelle automazioni cioè se il cliente non ci dice per cosa gli servono io posso essere anche la regina di tutte le automazioni del mondo ma chiaramente quindi impariamo che è il lavoro è anche proprio sul coinvolgimento della persona dell'azienda del responsabile che noi con cui parliamo eccetera nel lavoro che andrà fatto ma ancora siamo specifici siamo specifici perché non essere specifici nelle tempistiche nell'elencare quello che ci serve entro o che ci servirà entro quali tempi ci servirà se ci serve che le foto ci vengano mandate entro quel giorno perché poi ci saranno tre settimane di lavoro per avere questo cioè facciamo proprio una roadmap col cliente in modo che lui visualizzi fisicamente cosa succede e cosa dovrebbe succedere affinché quella cosa succeda bello questo mi piace se l'avete registrato me lo tengo perché quindi se fai questo entro questo avrai quest'altra cosa entro quest'altro ma non perché noi siamo nemici del cliente ecco attenzione a questa dinamica perché poi quando succedono queste cose entriamo in un tunnel di tensione per cui invece di essere persone professionisti che collaborano diventiamo due che tirano la corda uno da una parte uno dall'altra e lì poi succede tutto quello che succede perché la relazione piano piano si deteriora facciamo fatica a collaborare a lavorare e ovviamente anche a cliente fa fatica a percepire qual è il valore del nostro lavoro perché ci vede un po come i rompiballe della situazione ancora questo che mi sta chiedendo ancora ste foto ma glielo già mandate su whatsapp ma io non so cosa mi sta chiedendo questa cosa a noi danneggia tantissimo perché chiaramente se io penso che un progetto sito mi cuberà sei mesi e poi me ne cuba al doppio io ho dei danni quindi questa cosa noi spesso la facciamo passare sotto gamba ma in realtà è importantissima quindi non facciamoci problemi perché in realtà e questo è proprio un tema di relazione interpersonale che è il confronto con le persone cioè dire le cose come stanno e far capire che le cose succedono in un certo ordine no e quindi un progetto a una roadmap brand definita in cui tutti gli stakeholder devono essere coinvolti non significa fare un torto al cliente ed essere pesanti e cercare il conflitto e eccetera eccetera perché a volte cadiamo un po in questa dinamica anche inconsciamente no ah vabbè però adesso cioè adesso io comincio a dire che però se non fa questo io non faccio quell'altro come la prenderà però diventa no già e invece in realtà preveniamo veramente che poi ci siano delle rotture anche a livello del rapporto più avanti no quindi impariamo proprio in generale nelle relazioni con i clienti ma nelle relazioni con anche gli altri professionisti che collaborano con noi insomma un po con tutte le persone che incontriamo a dire quelle che sono le nostre esigenze e quelli che sono le esigenze di un progetto comune a cui stiamo lavorando se noi vediamo un progetto comune e il cliente vede che è un progetto comune si sentirà coinvolto perché il vero problema del cliente che non ci manda il materiale è che il cliente non si sente coinvolto perché magari non conosce il nostro lavoro perché dà per scontato che siamo dei tuttologi che quindi nel momento in cui diciamo ti faccio il sito come per magia tanto sappiamo tutto lo scibile umano ovviamente c'è la condizione qua non affinché tu faccia siti è che tu conosca tutto ma come i social in generale no cioè uno lo sa tu cosa è studiato tutto quindi ovviamente anche perché poi noi mettiamoci anche nei panni perché noi siamo fornitori ma siamo anche clienti no non è detto che conosciamo proprio tutte le dinamiche di della persona del professionista che abbiamo di fronte quindi può succedere che effettivamente il cliente non si renda conto di quali sono i passaggi per arrivare a un risultato quindi semplicemente iniziamo a spiegargli iniziamo a dare delle tempistiche concrete precise e il più possibile chiare e anche volendo messe per iscritto perché questa è la premessa fondamentale affinché sul lungo periodo non ci siano veramente delle tensioni che ci portano poi a diciamocelo francamente a perdere una marea di tempo oltre che di porzioni di fegato investite in malo modo e non per i gin tonic come invece sarebbe cosa più buona e giusta nel gestire le rotture di scatole che succedono quando dobbiamo gestire il cliente superiamo la prima fase di finalmente ci manda ste foto noi facciamo sto sito facciamo i social facciamo le mail facciamo tutto quello che è e come giustamente diceva alessandra c'è il picco no della novità che è normalissimo è normalissimo adesso io ho fatto la battuta sul matrimonio ma è reale cioè in tutte le le cose succede noi in tutte le relazioni cioè nel momento in cui bello bello entusiasmo poi dopo poi ok quindi chiaramente io ingaggio un professionista per iniziare a curare i miei social per fare il mio sito per fare qualsiasi altra cosa anche per fare formazione quindi nel momento in cui faccio un corso di formazione è una figata incredibile c'è vado in classe ogni volta ogni settimana di qua no bellissima e poi a un certo punto la cosa va scemando perché dall entusiasmo iniziale comparato un sacco di cose nuove poi diventa lo do inizio a darlo per scontato se noi parliamo di comunicazione e anche comunicazione digital in cui poi ci sono anche dei risultati del concreti e qualcosa di tangibile no può succedere a ma come però lo scorso mese mi hai mandato il report era cresciuto tantissimo come mai adesso siamo cresciuti di meno è però guarda che all'inizio si ma rifatto tutto il sito però adesso maggiorni solo il blog cioè io potrei farlo da solo come diceva alessandra no oppure potrei farlo fare allo stagista il cugino cugino ormai è diventato il bersaglio ogni freelance perché continuare ad avere una relazione questa è un'ottima domanda perché in realtà tutti noi sulla carta sappiamo che serve molto meno sforzo per portare avanti dei clienti che abbiamo già acquisito e portarceli nel lungo periodo ma poi in realtà i clienti sul lungo periodo è dura a portarseli avanti e a volte anche più dura di acquisirne di nuovi diciamocelo quindi questa cosa ha molto molto a che fare con quello che io all'inizio vi ho detto qual è il valore che il cliente percepisce nella nostra professionalità perché attenzione a dare troppa enfasi ai risultati concreti misurabili visibili no quindi nel caso di un sito proprio vedo che c'è un sito nuovo a bello quello di prima faceva un po schifo adesso in effetti mi sembra bello questo è il massimo che potete ricevere cioè adesso la user experience mi sembra un filino troppo di altissima comprensione però già che ti dicono bene effetti quello che prima era più brutto questo mi sembra più bello però logo se lo fa un po più grande è questo è il feedback normale no bene fatto il sito ok la nostra proposta quindi la relazione che abbiamo che abbiamo instaurato col cliente si basa sul fatto che noi faremo il sito più bello con logo più grande cioè o si basa sul fatto che il cliente ha scelto proprio noi per fare il sito più bello e con logo più grande questo è strettamente legato a che peso noi diamo a noi stessi come persone come professionisti nella nostra professione non dimentichiamoci mai di ricordarci che il cliente ha scelto noi perché vuole scegliere voleva scegliere noi mo vai a sapere perché ecco magari se ne avessimo vago sentore sarebbe meglio però in mancanza almeno siamo consapevoli che poteva scegliere tra miliardi di social media manager coach web designer automation di sa tutto quello che c'è nello scibile umano ma ha scelto proprio noi a meno che non era solo per dire beh il primo che ho trovato su google e l'ho scelto e potrebbe anche essere però a un certo punto ci avrà parlato con te se ha detto ok l'ho trovato su google in effetti va bene ma la comunicazione è un processo circolare perché il tema è che quello che noi diciamo al cliente e raccontiamo al cliente è molto responsabilità nostra e quello che noi raccontiamo al cliente non è solo quello che pubblichiamo sui social è tutto quello che facciamo da quando lo incontriamo lo vediamo o lui ci vede per la prima volta ma anche quello che facciamo quando gli mandiamo le mail per chiedergli le foto ma anche quello che facciamo quando ogni settimana lo chiamiamo per ricordargli delle foto quindi il tema è questo se il cliente mi ha scelto perché mi ha scelto più io sono consapevole so governare la mia immagine il mio modo di pormi e la comunicazione col cliente quello che arriva dall'altra parte se non arriva o percepisco che non sta arrivando nel modo giusto io insisto chiedo faccio domande ok chiedo feedback chiediamo i feedback ai clienti prima che ce li diano loro perché quando ce li danno loro sono negativi quando li chiediamo noi magari ancora c'è margine di intervento quindi chiediamo i feedback abituiamo i clienti al fatto che noi ci siamo e ci siamo con tutto il nostro essere quindi col nostro modo di fare il nostro lavoro e lì la domanda perché dovrebbero continuare a rimanere con me già inizia a delinearsi la risposta no dovrebbero continuare a rimanere con te perché sei tu quindi al di là ovviamente diamo per scontato i risultati no diamo per scontato che le cose vadano bene che stiamo crescendo che eccetera eccetera perché tanto siamo tutti bravissimi se non non staremo al freelance camp no giusto ma aggiungiamo quel pezzetto la relazione col cliente è una relazione tra persone quindi è la stessa dinamica la stessa domanda del perché quella mio amico è mio amico non è amico di un altro ok se noi lo sappiamo e quindi siamo in grado di proprio gestire quello che comunichiamo di noi stessi alla persona che abbiamo di fronte allora riusciamo anche a tener vivo questo rapporto nel tempo no e riusciamo anche a creare ad evolvere insieme perché un'altra delle questioni è che spesso o il cliente evolve magari sarà capitato credo un po a tutti no dire prendere dei clienti all'inizio che magari sono all'inizio dell'attività poi l'attività cresce 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 e noi cresciamo con quel cliente a un certo punto si ci diamo per scontati ma è importante un po come è importante ogni tanto col marito la moglie spegnere la televisione parlare è importante che ci diamo degli appuntamenti e delle occasioni per ritornare a conoscerci per ritornare a ricordare al cliente perché ha scelto proprio noi possono essere delle cose banalissime possono io un tempo fa prima sarah mi ha detto a mai è la borraccia personalizzata è una cosa di cui vado fierissima ho fatto le borracce col mio logo tempo fa ho deciso per esempio di dare per di regalare per natale a tutte le a tutti i miei clienti le borracce col mio logo non tanto perché c'era il mio logo perché anche chi se ne frega ma col messaggio di dire mi interessa che tu abbia una borraccia perché credo che sia importante che tutti noi iniziamo a fare dei dei piccoli gesti per l'ambiente ok questa borraccia è stata prodotta in italia eccetera eccetera bla 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 ora non è che gli è cambiata la vita no però e sono quei piccoli gesti che ti ricordano che oltre a luisa che si occupa di negoziazione di formazione bla 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 luisa è anche quella persona che ha quel tipo di valori quindi quando noi coltiviamo il rapporto col cliente abbiamo veramente tutta la possibilità di condividere i valori condividere anche appunto la crescita lo sviluppo della nostra attività e della sua non dimentichiamoci tutta quella parte perché è quella che tiene accesa la fiamma tiene accesa la fiamma della passione e non dimentichiamoci mai è questo ci tenevo è una cosa preparato la fiamma passione quella sempre viva nel mio cuore ma non dimentichiamoci mai che uno dei più falsi miti nelle reazioni coi clienti è il cliente ha il coltello dalla parte del manico chi l'ha detto almeno una volta mi offre un gin tonic stasera perché in realtà è un falso mito cioè è chiaro che il cliente da un momento all'altro può scegliere soprattutto in professioni che diciamo ce le c'è raga io faccio la coach che non lo fa il coach cioè ormai ormai ci sono tante persone che fanno professioni simili alla nostra se non identiche alla nostra no poi vabbè i coach sono fantastici perché ci aggiungono sempre delle diciture ci sono i flower coach green coach blu coach tutto quello che vi pare quindi è chiaro che il cliente dice vabbè tanto io se non vado al green vado al blu ma in realtà quello che vi dicevo prima è proprio questo cioè il cliente ha scelto noi e se continuo a sceglierci vuol dire che è d'accordo uno dei principi della negoziazione è che nessuna persona si siede a un tavolo negoziale se non ha interesse alla questione che c'è sul tavolo quindi se il cliente è lì e finché il cliente non se ne va vuol dire che il cliente è interessato a rimanere seduto a quel tavolo non dimentichiamoci mai questa cosa perché altrimenti finiamo nell'ottica di rincorrere continuamente il cliente perché se no va da un'altra parte perché c'è il coltello dalla parte del manico e ci dimentichiamo del motivo per cui siamo seduti tutti e due a quel tavolo e di cosa noi possiamo portare in quel tavolo che sarà non tanto meglio peggio e cioè ma semplicemente diverso rispetto a quello che potrà portare qualcun altro questo è veramente il principio base delle relazioni con i clienti ma viene da dire anche con i collaboratori quindi cerchiamo sempre di rimanere focalizzati sul motivo per cui siamo lì su quale sono le cose che ci contraddistinguono come professionisti e quali sono anche le cose che contraddistinguono il cliente come cliente perché poi un'altra arma vincente è che sul lungo periodo noi conosciamo il cliente molto meglio di quanto potrebbe conoscerlo un nuovo fornitore appena entrato e quindi perché farci scappare l'occasione di valorizzare questa conoscenza ok a me è capitato di lavorare quando ancora ero nel magico mondo della pubblicità di lavorare per un famoso gruppo di fast food in cui è arrivata a un certo punto una nuova marketing junior eccetera che chiamava me che ero di un'agenzia esterna per chiedermi cosa ci fosse dentro i loro panini io mi ricordavo a memoria io non ho mai mangiato in fast food in vita mia penso mi ricordava a memoria tutti gli ingredienti di quei maledetti panini dal e c'è a livello proprio questa cosa ha un valore era il mio lavoro no non era il mio lavoro ricordarmi quello che c'era in tutti i loro panini però per loro aveva un grosso valore perché altrimenti cioè io mi sono resa conto che un manifesto che una fissione era sbagliata dal colore del formaggio cioè ragazzi potevo andare a tusiche vales probabilmente con questa cosa invece ho deciso di buttarla le ortiche così adesso a parte gli scherzi questa cosa è una cosa che ha un valore perché io conoscevo quel brand al punto tale da riconoscere queste cose e quindi la conoscenza di lungo periodo la conoscenza approfondita è un grandissimo vantaggio al nostro favore al di là del fatto che sui report facciamo un più cinque un più due un più cento l'anno prima quindi questo allora il mio intento era proprio quello di di scardinare un po il la dinamica è sempre quello di scardinare un po delle dinamiche in cui noi cadiamo molto facilmente quando si parla di relazioni e di veramente lanciarvi la palla per dire cerchiamo ogni volta di guardare la situazione da più punti di vista perché da diversi punti di vista può darci veramente degli spunti diversi e possiamo trovare la chiave veramente per coltivare delle relazioni di successo e non mandare a quel paese i clienti che poi ce li potete anche mandare davis del permesso Grazie